9 del mattino, sala messa dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. L'assemblea dei lavoratori dell'e-trasporto organizzata dalla CGL è infuocata. Dopo la crisi dei vettori Maier e Alpi-Igos, infatti la situazione occupazionale è davvero preoccupante. Se le due compagnie non ripartono, il processo di cassa integrazione finisce dopo 24 mesi, per cui Maier ha ancora un altro anno e mezzo, per quanto riguarda Alpi-Igos, al gennaio finisce la cassa integrazione, per un anno in mobilità, per cui a quel punto sono licenziati. In più, il personale della Hata Handling hanno chiesto una procedura di mobilità per esubero, in quanto non ci sono più voli da assistere. Siamo 313 lavoratori circa che siamo a casa e siamo in attesa dell'attivazione degli ammortizzatori sociali, quindi la cassa integrazione e poi del fondo speciale per il sostegno al reddito, che ci porterà ad avere quasi l'80% della nostra retribuzione. Il 29 di gennaio la cassa integrazione per tutti noi dipendenti, attualmente siamo in 130 circa, scadranno i due anni e purtroppo finiremo in mobilità, in mobilità che durerà solo 8 mesi e poi saremo disoccupati. Oltre a questi lavoratori poi ci sono quelli stagionali, che anche a fronte di volumi di traffico in crescita, sono i primi ad essere lasciati a casa. I voli subiscono grandissimi ritardi da qualche giorno, in seguito alla scadenza dei contratti di parecchi lavoratori, soprattutto in rampa, e nonostante questi ritardi si dichiarano questi esuberi. Il sindacato dunque chiede che la SAVE, la società che gestisce il Marco Polo e la Regione, convochino un tavolo di confronto per trovare una soluzione, per esempio mettendo in campo degli incentivi per le società interessate ad acquisire Maier e Alpi Igos. Si potrebbe ricercare sul mercato del trasporto aereo delle società che possono rilevare gli slot, possono rilevare il personale e utilizzare tutti quanti i sistemi di incentivazione per rioccupare i lavoratori che sono in cassa integrazione o in mobilità.